Ovviamente per l'occasione mi sono vestita da sabbioni Dunque da dove partire? Dall'inizio per esempio Un giorno, sembra l'incepito di una storia infinita ma giuro non vi tengo qui a invecchiare con me Un giorno mi contatta Martina che è la social media manager di sabbioni Nonché mia pain friend Marti si può dire Perché ormai è un anno e mezzo e due che ci sentiamo Ultimamente anche in modo regolare, settimanale Quindi ormai Marti sei la mia pain friend di Ravenna Credo che si faccia così adesso il cuore Martina cura anche gli eventi di sabbioni E in breve mi invita il 14 marzo ad un evento di sabbioni per il lancio di una linea esclusiva A Ravenna Io che figura ti partecipo ogni mese ad eventi Sono molto preparata, molto richiesta Poi insomma vado per i 33, sono una mamma Una professionista a giorni alterni Alterni ad esaurimenti Ho una reazione tiepida, tranquilla Tipo questa Che vi devo dire ragazzi Secondo me di fronte ai nostri sogni torniamo tutti un po' bambini E come solo i bambini sanno fare Torniamo ad emozionarci Ci vengono proprio gli occhi pieni di gioia Di entusiasmo, di adrenalina Di voglia di vivere Non sto piangendo È entrato qualcosa nell'occhio Mi sono un po' fatta desiderare Ci ho messo dai 5 ai 6 secondi ad accettare Sì subito Adottatemi Però devo dire non è un periodino proprio tranquillo per noi Quindi non è stato esattamente così facile poi organizzarmi Sapete abbiamo aperto un'altra attività Iniziamo ad essere un bel team corposo Inoltre Vittoria va a scuola Quindi non potevo farle perdere scuola Mia mamma ha preso un treno È venuta qui qualche giorno a sostituirmi Io e Fabio ci siamo organizzati con il lavoro Così anche Fabio è venuto con me Siamo scesi in macchina Perché purtroppo a livello di mezzi pubblici Non è la mia una zona particolarmente servita e riverita Avrei potuto farlo però insomma Potendo scendere in macchina è stato molto più comodo Anzi abbiamo anticipato la nostra trasferta di un giorno Per prendere questa discesa molto tranquilli Per farci anche un giro in città Ravenna è una bellissima città Ci ha proprio lasciato la mia curiosità Quindi tornerò volentieri a visitarla In cambio della curiosità Uno scambio equo Ho portato a casa un paio di chili Se magna benissimo Insomma il 14 marzo Sono a Ravenna E partecipo al lancio ufficiale Della nuova linea cosmetica Sibi In esclusiva su Sabioni Negli store e sul sito ufficiale sabioni.it Sibi è made in Italy Ma possiamo dire di più Sibi è 100% romagnola Dall'idea alla produzione Alla distribuzione Le altre ragazze content creator Che hanno partecipato all'evento Erano tutte della zona Praticamente l'unica forestiera sono io Non chiediamoci perché le gioie vanno prese Senza domande Dico questo perché la territorialità non è così scontata In Italia Nel nord Italia tra la Lombardia e l'Emilia Romagna Si concentrano diverse aziende molto grosse e importanti Che producono per terzi anche per brand internazionali E in questo caso abbiamo un prodotto pensato, finito e distribuito in Italia In questo caso l'azienda produttrice si chiama Gala E di Forlì era presente all'evento con le sue professioniste Che si sono occupate degli ingredienti, della formula La pronte a rispondere ad ogni nostro dubbio, domanda, perplessità Mi è piaciuta molto questa trasparenza Chi mi segue da tempo sa che ho avuto a che fare con un'azienda terzista del Bresciano Che ho visitato qualche anno fa, tre anni fa credo Un'azienda molto grande, credo la più grande nel territorio Bresciano Per farvi un esempio, pensate alle tre marche più famose di dentifrici Che acquistate, che trovate al supermercato Ecco, probabilità del 95% delle tre marche a cui state pensando Sono prodotte dall'azienda che ho visitato Ma poi sul prodotto finito non trovate quasi mai l'azienda che produce Trovate solo il brand Che per il cliente è l'unico referente e il responsabile Invece in questo caso il legame Sibi e Gala Che lavorano insieme in sinergia è valorizzato Una linea cosmetica vegan Con fino al 99% di ingredienti di origine naturale Una linea tenuta in grembo, coccolata, studiata per un anno e mezzo, due Che vede finalmente la luce oggi, lunedì 18 marzo Ed è già piuttosto cicciotta Ci propone diversi prodotti Sia per la detersione, lo strucaggio La cura della pelle del viso e del corpo E adesso vi racconto tutto ma prima lasciatemi fare un caloroso saluto Alle ragazze che hanno partecipato all'evento con me Qui alcune con cui ho scattato una fotina Ma tutte le ragazze che ho avuto modo di conoscere Al team di sabbioni a cui ho stretto la mano Una ad una, anzi i ragazzi di sabbioni Mi hanno beccato che stavo facendo colazione la mattina dell'evento Perché ero già in struttura Occhialazzo per coprire la vergogna Struccata, brutta come la fame A me con i capelli, avevo appena lavato ma non avevo ancora messo in piega Non so effettivamente come abbiano fatto a riconoscermi in quelle condizioni Ma pare che sia successo Infatti ho stretto la mano e assicurato che sarei andata a fare un breve ristauro Sibice è stata presentata da Beatrice Che è la responsabile ufficio marketing di sabbioni Michela cara, da cosa fai? Scrab Ecco Si chiama New Me Grazie Questo vi fa capire che diventate nuove Diciamo crema o scrab? Beatrice ha saputo raccontarci di Sibice con una semplicità E al contempo un affetto particolare Una luce negli occhi che è tipica delle mamme In questo caso di un progetto Quando sono pronte a far prendere il volo alla loro creatura Sibi Your gentle skin mate Letteralmente la tua compagna di pelle gentile Così ce l'ha raccontata Come una compagna Un'amica Quell'amica Intima Quell'amica D'infanzia Quell'amica Con cui hai la confidenza che hai con una sorella Quell'amica Che può condividere con te I momenti più personali Vi coinvolgo un po' anche nell'evento C'erano i biscotti della fortuna da pescare Io ne ho pescati un paio E in uno c'era scritto che Sibi è quell'amica Che ti porta il cioccolato quando ne hai bisogno In un altro c'era scritto che Sibi è quell'amica Che ti avvisa se hai qualcosa tra i denti Non è la prima volta che dei prodotti per la cura della pelle Vengano avvicinati al concetto di amicizia Amici della tua pelle Compagni della tua pelle Ma devo dire che una cosa è dirlo Leggerlo E una cosa è respirarlo Continuo a saltare da una cosa all'altra Ma è difficile mettere in ordine le idee L'evento è ancora fresco E mi piace anche portarvi questo entusiasmo Fermare in qualche modo i ricordi in questo video E magari riguardarlo quando ne avrò bisogno Anche se non amo riguardarmi in video Devo dire che anche se si crea un po' di confusione Non è il discorso più ordinato della storia Mi piace portarvi parallelamente questi due discorsi Perché se da una parte ho conosciuto la nuova linea cosmetica Sibi A cui chiaramente do il benvenuto Dall'altra parte ho conosciuto Ho conosciuto sabbioni Ho conosciuto le persone che insieme formano sabbioni Le persone che insieme fanno Sono sabbioni Con cui lavoro da diverso tempo E come Sibi ci è stata raccontata Così quella cosa Io l'ho respirata nel team di sabbioni Tra di loro Il team è molto unito Molto affiatato E nei miei confronti Sono romagnoli Sono l'accoglienza per eccellenza Ecco allora che l'intento di questa linea Sibi Una compagna per la pelle Della pelle Un'amica che vuole capirti E farti sentire meglio L'ho proprio toccata con mano Quando dico che Sibi vuole capirti Dico che Sibi esce con ben 5 prodotti dedicati Allo struccaggio e alla detersione Quindi ce n'è per tutti i gusti Per tutte le esigenze Per tutte le pelli Ed è proprio sulla linea detersione Che voglio soffermarmi e concentrarmi in questo video Mi è stata gentilmente omaggiata da sabbioni Che ringrazio E quindi ho già iniziato il mio test È caratterizzata da questo colore pulito Puro, etereo Che è questo azzurro chiaro E si chiama Tornando al concetto di compagno Di amico Cleansing Buddy Abbiamo l'acqua micellare Uno struccante delicato Con olio di camelia Che tornerà in altri prodotti Tra l'altro È molto utilizzato anche nella skincare coreana E aloe vera fermentata biologica Ideale per viso, occhi e labbra Senza profumo Sono 200 ml Piccola parentesi A prezzo moltissimo Che Sivi nelle istruzioni d'uso Abbia specificato Che va risciacquata con acqua tipida Se un prodotto Deterge Strucca il nostro viso Contiene tensioattivi Quindi va sempre risciacquato Tante case cosmetiche Si ostinano a dire Che la loro acqua micellare Non va risciacquata Ma è solo una trovata di marketing È solo una finta verità Per accontentarci Visto che Andiamo sempre di corsa Arriviamo a sera stanchi Abbiamo voglia di accelerare Il processo della detersione E quindi Tocco un tentino L'acqua micellare Non sciacquarla Niente vero Sciacquate tutto Segue lo struccante bifasico Ve l'ho detto Ce n'è per tutti Come vedete È bifasico Composto da due fasi Una acquosa E l'altra oleosa Quindi prima di essere utilizzato Va sempre shakerato Diventa un'unica soluzione Io questo non l'ho ancora provato Ma non vedo l'ora di annusarlo Le poche foto in cui Non ho un calice in mano Sto usando dei prodotti Buono Buono Molto delicato Senza alcol Senza ingredienti di origine animale Siliconi Oli minerali E coloranti sintetici Testato al nickel Cromo E cobalto Invece ho ovviamente Già provato Perché mi sono struccata Due o tre sere Da che li ho in mano L'olio detergente Viso struccante Questo mi è piaciuto un sacco L'ho usato proprio ieri sera L'ho trovato Tanto avvolgente Quanto efficace E soprattutto L'ho rimosso E sciacquato In un unico gesto Quindi forse Devo appurare E mettere un po' a puntino Le mie recensioni Ovviamente nel tempo Potrebbe essere adatto Anche ad un unico passaggio Di detersione Poiché lascia il viso morbido Ma pulito Dal make up E dal prodotto stesso Che non resta Aggrappato alla pelle Su due piedi Mi verrebbe da dire Un ottimo prodotto Burro struccante Qui abbiamo un mix Di oli Interessanti Tra cui l'olio di macadamia E addizionato Estratto di sambuco È un burro che resta Molto corposo Come quelli che piacciono a me Per questo anche molto concentrato Con una profumazione Davvero molto delicata Discreta Una profumazione naturale Non è una profumazione forzata Spinta Artificiale Molto sintetica O chimica Mi piace Un prodotto efficace Nella sua funzione Che è quella di struccaggio Ma che se ben massaggiato Vi consente anche Proprio di ammorbidire la pelle Ricordiamoci sempre Che la cosa più importante Per avere una valida skin care E vedere dei risultati Oltre all'SPF Scegliere i prodotti adatti Alla nostra pelle Per la fase di detersione Perché prima ancora di tonici Sieri, maschera Tutto ciò che viene dopo Se andiamo a lavare Il nostro viso A liberarlo dal trucco Da tutte le sporcizie Accumulate durante il corso Della giornata Con qualche prodotto Che va a Sì lavare Ok Ma ad aggredire la pelle Poi tutto quello che viene dopo Sarà un cercare di riparare Una pelle Comunque irritata Magari non la vediamo irritata Al primo utilizzo Del prodotto sbagliato Il dissenso Da parte della nostra pelle Può arrivare anche Nel tempo Utilizzando un prodotto Che non fa per lei Ma comunque Con i prodotti sbagliati Appare una pelle Insoddisfatta Voglio dire che la pelle A volte ci dice Ci mostra Ma altre volte silenziose Siamo noi Che dobbiamo Saperla ascoltare Quinto ed ultimo prodotto Quinto ed ultimo prodotto Della linea di detersione Cleansing Buddy Impatante Con una texture Lattiginosa Inoltre troviamo Quello rimpolpante E quello esfoliante Seguono tre creme Con il tempo avrò modo Di provare anche loro Immancabile una crema Contorno occhi La texture ha un bel corpo E un ottimo prezzo Un fluido per ciglia E sopracciglia E per il corpo Arriva l'estate Ho provato Per ovvie ragioni Sulla mano Lo scrub corpo La crema corpo E la crema mai Insomma Se siete curiosi Di conoscere Sibi Insieme a me Io ho appena iniziato La fase di test Quindi potremo avviarne Uno parallelo E scambiarci opinioni Confrontarci Trovate questi prodotti Da oggi Lunedì 18 marzo Sul sito ufficiale Sabioni.it Ovviamente Per chi ha la fortuna Di vivere in Emilia Romagna Negli store Sabioni Prima cosa che ho fatto Quando sono arrivata a Ravenna A controllare Dove fosse uno store Sabioni Ne ho trovati ben sette Solo a Ravenna Mi sono recata In quello più grande E neanche a dirlo Ho fatto email A questi Ma questo è un altro discorso Ne parleremo in un altro video Addette alla vendita Cordialissime In particolare Ho fatto quattro chiacchiere Con la responsabile Sisley Davvero preparata E professionale Spero di essere riuscita A mia volta A presentarvi Sibi Così come L'ho conosciuta E spero di aver dato A Sibi un'anima È stata davvero Una bellissima esperienza Torno a casa Piena di motivazione Di ispirazione Non avrò i numeri Ma ho delle persone Che credono in me Non ha scelto Solo me Io sono il tramite Ha scelto la mia community Quindi tutti noi Ma adesso Mia figlia 6enne Al piano di sotto Ha messo la noia Di Angelina Mango E quindi io non riesco più A sentire nemmeno I miei pensieri Mi scrivete Cosa pensate Cosa vi è arrivato Nei commenti Nei commenti Ciao a tutti